In compagnia di Marco D'Agostini, che è sempre parte del direttivo del cantiere, abbiamo sentito che ha fatto un intervento. Il cantiere è un'associazione di cultura politica, in qualche modo l'anima di un'associazione, se così possiamo dire, la carta più importante è il suo statuto, che un po' la connota, la caratterizza, ne fissa anche gli obiettivi, i metodi e così via. Parliamo di questo statuto che caratterizza questa associazione. Io sono stato chiamato a far parte dell'associazione, non ho l'onore di essere tra i fondatori, ma ho condiviso le finalità, in particolare quel passaggio dello statuto che pone al centro il primato del pensiero, il primato della parola. È un collante tra culture molto diverse, culture che spaziano dal mondo laico, ma d'altra parte in principio era il logos del Vangelo di San Giovanni, che riescono a tenere insieme mondi molto diversi. Diceva un importante filosofo della politica, uno studioso, forse il più grande studioso di scienza della politica, Maurice Divergé, che l'organizzazione interna di un'organizzazione politica è un po' l'organizzazione che si prefigura per la società e per lo Stato. Ecco, diciamo che nel cantiere c'è forse una felice sintesi tra un'aristocrazia di pensiero e una democrazia diretta, perché lo statuto del cantiere prevede che i soci fondatori assicurino il Comitato dei Garanti, è un po' come se Costantino Mortati e Meuccio Rovini facessero parte per sempre della Corte Costituzionale da un lato e dall'altro qualunque socio, anche appena iscritto, può puntare a essere eletto nel direttivo, nella leadership e cantiere, perché ogni anno il cantiere procede all'elezione e al rinnovo di tutte le sue cariche. Per quanto riguarda l'attività del cantiere e la connessione tra questo riferimento al primato delle idee, primato della parola e l'attività del cantiere, è interessante notare come su questa attenzione per la conoscenza, l'approfondimento, lo scambio anche tra culture diverse, si va da controcorrente in una società in cui si premia invece la fretta sulla qualità, il tweet sull'approfondimento e il comunicato stampa sui contenuti di ciò su cui si deve decidere. Insomma diciamo che, almeno per quanto riguarda queste modalità, il cantiere non si allinea appunto alla rapidità e alla compulsività insomma della comunicazione, che spesso è anche compulsività nell'elaborare un pensiero, non solo nel comunicarlo e quindi come con tutte le cose fatte un po' di fretta spesso lasciano un po' il tempo che trovano e non a caso poi si superano in tempi rapidissimi, si calpestano, si contraddicono spesso in termini molto rapidi. Tra gli esempi che mi fa piacere ricordare e che testimoniano come la fretta non coincida con la tempestività, voglio qui ricordare come il cantiere ha approfondito in un suo seminario i temi del referendum ben un anno e mezzo prima della convulsione di incontri in cui stiamo in questi giorni perché tutti i club, partiti, associazioni stanno affrontando il tema della riforma costituzionale, il cantiere l'ha affrontato già all'inizio del 2015 quando forse si era ancora in tempo, se ci fosse stato magari più dialogo tra istituzioni e mondo della cultura a migliorare qualche aspetto, come al tempo stesso è stato tempestivo un intervento del cantiere all'indomani dei tragici eventi in Bangladesh dove alcuni italiani sono stati vittime di attentati, un incontro di riconciliazione diciamo tra la cultura italiana e la cultura del Bangladesh ha avuto luogo proprio grazie al cantiere con un incontro che è stato culturale, di danze, musica, arte ma che è stato anche un incontro politico di in qualche modo riapposificazione ideale tra questi due popoli Perfetto, ringraziamo Marco D'Agostini, anche lui gli dà un appuntamento su LibreTV per questa intervista per tutti gli altri appuntamenti che ormai LibreTV è praticamente una partner, un media partner del cantiere Grazie ancora